Buonasera a tutti, grazie. A nome del comitato organizzatore dell'incontro, a nome di NIQ, a nome dell'advisory board, vi do il benvenuto alla 38esima edizione dell'incontro. Peraltro 35 di queste edizioni si sono tenute qui al Forte Village, che ringraziamo con l'occasione, quindi per il Forte Village è un anniversario perché 35 edizioni in questo posto che è cresciuto con noi. Quindi benvenuti al Nielsen, come lo chiamano molti di voi, anche se adesso abbiamo fatto diversi rebrand, però diciamo che per la maggioranza di voi questo rimane il Nielsen. Avete visto nel video iniziale alcune parole, fiducia, futuro, cambiamento, emozioni, sono le parole che, se ci pensate, hanno da sempre caratterizzato questo evento. E questo sarà il filo rosso che unisce le tre giornate del nostro evento. Qua abbiamo fatto il solito giochino provando a scrivere su questa slide i partecipanti. È stato molto difficile, è stato molto difficile perché siamo veramente in tanti. Quindi scusateci, ci si sarà qualche piccolo problema di carattere logistico, ma quest'anno è veramente un'edizione speciale. Questa edizione è speciale per diversi motivi e lo scopriremo durante l'evento, durante le nostre attività di networking. Prima fra tutti è la vostra presenza. Come dicevo, siamo in tantissimi. E questo ci ricorda un'altra parola o altre parole che sono uscite verso la fine del video, che poi è l'ingrediente fondamentale di questo meeting. È l'essenza dell'incontro, l'ingrediente di successo, il noi. Il noi, abbiamo parlato tantissimo del noi. Questo è l'unico evento che mette il senior management della distribuzione e dell'industria, del largo consumo, insieme. Quindi lo stare insieme ha sempre caratterizzato questo evento, ma soprattutto il fare assieme. Lanceremo qualche stimolo sul fare assieme, sicuramente ce n'è ancora da fare, ma è molto importante. Quanti siamo? Beh, direi che l'edizione 2023 è un'edizione record. Abbiamo provato, visto che siamo in casa di NIQ, a dare... Se possiamo andare sulla slide successiva, grazie. Abbiamo provato a dare dei numeri, un po' il nostro lavoro. Quindi abbiamo sforato i 600 partecipanti. E parlo di partecipanti dall'industria della distribuzione. Abbiamo circa 870 persone per tre giorni al Forte Village. Abbiamo raggiunto 200... La presenza di 250 aziende. Non si era mai visto. Come dicevo, a noi, Nielsen, piace usare dei KPI, no? Parliamo di distribuzione ponderata. Benissimo. Prendendo tutte queste aziende che sono presenti, raggiungiamo il 70% dell'industria del largo consumo in Italia e per la prima volta la presenza dei retailer, della distribuzione, ha superato in ponderata quella dell'industria. Quindi siamo all'80%. Vabbè, mancano due nomi che sappiamo tutti che manca. Quindi, a riprova della rilevanza che questo evento ha nel mondo NIQ, permettetemi di salutare alcuni manager internazionali che sono qua presenti per la prima volta all'incontro. So, a warm welcome to NIQ international leaders, qui con noi, qui in fronte, per la prima volta all'incontro. Non la prima volta, ma la prima volta. As a proof, as a proof of the importance of l'incontro within our company, within our organization, and to celebrate a very special anniversary, it's a great pleasure to have here our global leader Tracy Messi that I invite on the stage for an opening speech.